Ma è così in ansia? Allora dimmi, dimmi, hai comprato, amor mio, che cosa ti mando a dire? Oggi, alle tre, nella cella di frate Lorenzo, Romeo mi prenderai in sposa. Ma non è? Ci vuole un abito adatto. Ci vuole un abito adatto. Ci vuole un abito adatto. Sì, abito adatto. Un abito, tutto piano. Un abito adatto, tutto piano. Un abito adatto. Un abito adatto. Un abito adatto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.